Ciao a tutti e ben ritrovati, mancano pochi minuti al fischio d'inizio, vediamo come sempre insieme i protagonisti del match. Armi tira incontro il signor D'Arippe Picciani, ai assistenti i signori Caponi e i giardini, Armi Trovani, il signor D'Ai Annasca, assistente Vani, signor D'Ai Battista, quarto ufficiale il signor Napena. Comunichiamo le formazioni delle squadre. 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 Comunichiamo le formazioni delle squadre.